L'Italia offre una serie di diverse formi legali per la scuola. È possibile iniziare un'attività di business in Italia con l'estabilità di un office representative, con l'opera di un branch e con l'incorporazione delle scuole. Il office representative è la struttura più semplice per una scuola in Italia. Non è una entità legale indipendente con rispetto alla scuola parentale. Il suo obiettivo principale è permettere di portare attività preparatorie e auxiliari. È una struttura flessibile con necessità minimi e è utile per i primi approcci preliminari a questo paese. Una scuola parentale potrebbe anche impostare un branch. È necessario un'estabilità permanente e l'appointmento di una persona per rappresentarlo vis-à-vis delle parti. È non una entità separata con rispetto alla scuola parentale. È subito a meno obbligazioni statutiche se rispetto a una scuola parentale. La scuola parentale potrebbe essere in forma di partenze o di partenze di capital. Le partenze apprendono una struttura organizzata semplificata. Sono suitabili per attività di dimensione limitata e costa ridurre costi di impostare e di gestire. Le partenze apprendono semplici, le partenze apprende, le partenze apprende, o le partenze apprende, in short, SIS. Le funzioni comuni delle partenze sono che il minimo di capital corporello non è necessario e le partenze apprendono semplicemente e giuntamente liabili per le obbligazioni delle compagnie, con l'excepzione dei partenze limitati del SIS. Le partenze di capital sono normalmente scelte dai gruppi multinazionali. Sono utilizzate in connessione con le attività di business più complesse e strutture. Le partenze più ricordanti sono le partenze di stock, le partenze di SPA, con cui il capital corporello è rappresentato con le partenze, e il suo valore deve essere almeno uguale a 120.000 euro. Potremmo avere le partenze limitate le partenze, in breve SRL, che il capital corporello è rappresentato con le partenze, e deve essere almeno uguale a 10.000 euro. Le funzioni comuni di queste partenze sono che le partenze solo sono liabili per le loro obbligazioni, e il rischio di partenze è limitato a loro contribuzione. In Italia, alcune attività di business necessitano autorizzazioni, licenze, o la ricordazione nei registri pubblici. A più di più, i cittadini dei cittadini devono ascoltare, se i loro paesi devono garantire ai cittadini italiani i stessi dei propri diritti che devono garantire loro. se il termine reciprocità non è finito finito, poi alcuni limitazioni possono arrivare. Il sistema delle compagnie normalmente necessita attività di essere signati in fronte di un pubblico. le compagnie attività legale seguendo la registrazione con il registro delle compagnie che è fatto con un registro elettronico. il tempo necessario è nel 5-8 giorni lavorare. i servizi normalmente sono necessari da giudici e amministrati. i costi che possono essere accettati da 2.000 euro a 8.000 euro o più dependendo sulla complessità dell'avviso e del capito. Grazie per l'attenzione e spero di vedere tutti in Italia.